Sono finite in fumo le 14 tonnellate di anfetamine sequestrate lo scorso giugno al porto di Salerno nell'ambito dell'operazione Captagon. Distrutte in queste ore in un termovalorizzatore di Ravenna, 84 milioni di pasticche per un valore di mercato superiore al miliardo di euro. La droga proveniente dalla Siria era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Napoli. Per la stessa indagine, poche settimane prima, le fiamme gialle avevano effettuato un altro sequestro di 2,8 tonnellate di hashish, anche se incenerite. Imponente il sistema di sicurezza messo in atto per il trasporto della sostanza stupefacente. In azione un convoio composto da due auto articolati scortati da mezzi terrestri e aerei che si sono mossi nella notte per arrivare al termovalorizzatore di Ravenna alle prime luci dell'alba, necessaria infatti per le operazioni un'intera giornata. Oltre 50 i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli impiegati, selezionati tra gli specialisti di antimafia, antidroga e ordine pubblico, tutti a bordo di auto e due elicotteri, hanno scortato il convoio fino a destinazione per garantire un trasporto in sicurezza.